la trasmissione ma ora si trasmette si si trasmette ed è un po' dentro che intanto adesso ciò non deve essere scritto vale mettiamo la faccia intanto cerchiamo la partita a me è marietto po' il messaggio il live streaming deve essere un po' però credo sul telefono marietto il messaggio ah eccolo eccolo ho visto il live ora eccolo eh lo so a vedere pure io a me è marietto po' il messaggio che non è il messaggio che non è il messaggio non è il messaggio stiamo un po' a Valerio eh qual è che si è un attimo dell'amore io eh oh Valè stai sull'unico calcola che l'unico del Parana che il Parana che il Parana stavano a zero e noi avevamo 1x e gol oppure 2 e 2 più ove capito? c'è te rendi conto l'Atletico DM l'Atletico? l'Atletico? l'Atletico Minerio si era la seconda in pratica eh lo so però pensavo che segniassero dai la faccia dai la faccia Valè stiamo a trasmettere su Youtube fai vedere che figata che buon Dio eh su Youtube trova vaccina ha messo il link trova vaccina trova vaccina tutte innovazioni tutte innovazioni eh lo senti? ahahahahah ahahah ahahah c'è dire è vero con chicca sono le innovazioni voglio fare un saluto a Stem e a tutta la mia famiglia ma caravello fuoco al calcio di inizio ti parla Pierluigi Pardo vi do il benvenuto a questa sfida in compagnia di Stefano Nava ciao a tutti i lupi stare questi signori oh la finale questa eh eh la partita finale la partita finale ah guarda la finale mettiti pensiero guarda 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 si ferma il popolo I portieri c'è che hanno con taschetto hanno sempre con taschetto riguardo e come è brutta comunque è brutta quella partita che avevamo perso eh ma guarda la eh cosa guarda ma secondo me è possibile eh quella di che ho fatto io ah ci vorrei eh grande pressione su di lui ok qua nel senso attenzione attiro nooo non vedi ma è un po' che ha fischiato nooo oddio ma non è stata la luna ha avuto forse troppa fredda e l'ha tenito in fuorigiò oh merda questo mi dovessi tagliare si perchè li chiamano i lupi l'anticipo del difersore ma questo mi sa che è una squadra che si attiva sul ah il lupo Castelli no sulla pagina di Facebook di ProClub chi ti ha detto? mi sa la puntata via perchè ci sta? che cazzo mi sa che li fanno i tornacoli online che li è fi.com attenzione buon intervento rifensivo vediamo nooo attenzione attenzione ok proviamo allora e gli è lupo questa cosa ti sta abbattando? dai è lupo ci troviamo oh no no che spazzone no guarda questo passaggio che non era certo tra i più precisi questo ha agevolato 100 a dentro buono cazzo no si, ciao ottimo pressing, recupera il pallone ma che cazzo ma che cazzo tocchi occhio, cerca l'area di rigore buone cross il recupero sul pallone sarà rimessa con le mani pochi centimetri dal corner totti farti il tiro hanno spregato una bella opportunità per portarsi in battaglia questa è una grande occasione chissà se capirà ancora ma è vero, questi c'è nel portiere non sa scurga cazzo però porca roia manco io oh rigorissimo rigorissimo oh e no stamane è fuori pirlo no vabbè riesco a recuperare il possesso no vabbè no vabbè no vabbè no no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè non mi ricordo quant'è la pezza via c'è no quant'è non mi ricordo che c'è il 99 non mi fa mazzato non mi fa mazzato esce e recupera il pallone l'arbitro manda tutti negli spogli a noi finisce 0 a 0 il primo tempo c'è grande equilibrio? rimarrà? secondo te nel secondo tempo Stefano in pratica ho perso tutte e due i giocati in live si e tessa pure in live si e tessa pure in live si in live si e tessa pure eh tutto questo si parte con il secondo tempo in live si e tessa pure nooo era meglio che avevo giù erano di gioco ma che brivido in difesa qui è pieno rischiato eh nooo topti oh guarda rigore io rigore, rigore eh c'è grossato che poso la pagina quella su youtube io sono 266 iscritti nooo 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 ma pure manco un'altra non c'è credo come cazzo è possibile che manca la nostra occhio al suo movimento no l'avevo passata eh ma i 4 addosso alla vita eh ma l'avevano eh ma l'avevo passata ma l'avevo passata ma l'avevo passata uno si chiama il pupone o interrompe l'azione con un intervento tempestivo questo ma l'avevo passata ha provato a liberarsi ma non ci è riuscito a rimessa laterale va stanno vedendo odio no l'avevo passare mamma mia l'ho state e guarda che è già zitto e io ho la spazio nel movimento dei compagni grande uno contro uno normale ma questo è un gioco politico cioè si ma io qua stavo in fuori gioco uno il gioco non è ancora palla larga no vado a sopra stavo pensato a te guarda come la barra del merda hai la presa no 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 guarda c'è e addormenti pirlo premia la corsa sulla fascia cerca un angolo di passaggio attenzione perché aveva già rimediato il cartellino giallo dovrebbe stare più attento aveva già ricevuto il cartellino giallo qui stefano ha mischiato parecchio molto molto rischio uno fa l'uscita del portiere di pugno è un'altra parte via la mare bello guarda vai grande donna finza la grigia grande donna fine vado la guarda è ancora fermo sulla parità è sicuro che assisteremo altri gol nei minuti che arresto vicino a fare i conti con la stanchezza nooo guardate quanto oddio come il nome ragazzi vai al conto ci sono metri a disposizione supera facilmente il difensore trova in porta distinto il difensore pazzamino no perchè appena le destra sto insieme ruba bene palla l'avversario no vale guarda ho fatto il lanciolo oh ma lì c'è il fischio dell'arbitro c'è la bandierina per il fuori troppo puntuale è arrivata la segnalazione di fuori gioco da parte dell'assistente c'era troppa luce tra l'attaccante e l'ultimo difensore ah lo su oh cazzo di lui oh no nooo non ha fatto nooo ma ha tirato fuori in cielo possibile tribuna sto faccio l'arroco duro ahahah che poi tipo alta alta ha tirato ahahah st'ha fatto pure il giocatore ti sei fatto più da che l'emozione si si parte con il primo tempo supplementare ovviamente con lo spettro dei rigori dai questi i soccotti fai dico nooo ahahah ce n'avamo di due eh ce n'avamo di due un po' 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 Vai Dolphins, bello Dolphins, no Dolphins, che è la niente, sono privati di estregare. Non riesco a mancarsi il mio lavoro. No vabbè, quanto di cazzo, ah raga dai, questi stanno pure a morire, tutti stanno fatti. La cosa bella che ci hai venuto registrato. Dovrò voglia gestionare Occhio al suo movimento Conquistano un buon pallone al centrocampo Nooo 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 Lo dico a mezzo il cazzo E' la voglio Non vai a provincia No, perché tu l'ha preso? Mi ha preso? Mi ha preso? No! Ma perché hai navigato? Perché sei autorista Sei autorista Grazie Come va adesso? Vabbè Vabbè O che vale Wai Vabbè 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 Nooo Palla Il pallo laterale Vabbè Noi abbiamo partito contro Piero Ma forza Io ci applico Vabbè 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 non è vero diamo di otta quel coso io già amare un cominciare a picciare anche se non si è colla e andiamo ho sboccato due rigori ti deve dire una posizione ma almeno che lo maglia no guarda che cazzo tira guarda che cazzo tira guarda che cazzo tira va reale no gazzo no e dai Spera di staccare Foto di gruppo con i giocatori orgogliosi per il trofeo appena conquistato sono davvero veritato Hanno lavorato duramente a raggiungere questo progetto, sono allora Senti un po' le trasmissioni